Oggi i tortiglioni alla norma! Tortiglioni alla norma, per preparare questa squisita ricetta siciliana occorre una siciliana, ma soprattutto degli ottimi tortiglioni. Ecco le stagioni d'Italia di Grano Senatore Cappelli, un grano unico, italiano. Ciao Maria Grazia, ho un dubbio atroce. Che succede Geyser? Per il mio pranzo a base di patatine fritte devo metterci la senape e il tabasco o anche la panna acida? Ma perché? Senti io sto preparando dei buonissimi tortiglioni alla norma, stai qui con me che ti faccio vedere come si cuscinano. E che si muove? Allora, per iniziare serve una bella melanzana. Melanzana? L'ho già sentito come nome, sai? La tagli a dadini e poi la friggi in abbondante olio di semi. Appena saranno dorate le tiriamo fuori e le mettiamo su della carta assorbente. E adesso passiamo al sughetto. In una padella mettiamo un filo d'olio extravergine d'oliva 100% italiano. Poi aggiungiamo le melanzane. La passata di pomodoro. un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, che è il segreto della mia mamma, e qualche foglia di basilico. E lasciamo cuocere il tutto per circa 10 minuti. 10 minuti d'ansia! E poi? E poi? Poi tocca i tortiglioni, quelli di grano senatore cappelli. Tra filatura al bronzo e siccazione lenta tengono benissimo la cottura. Anche perché a me piacciono al dente. Ma l'ultima volta che ho fatto io qualcosa al dente è stato dal dentista. Ma quanto sei simpatico, simpatico, simpatico! Dai, seguimi. Scoliamo la pasta e la tuffiamo nel sugo. Mantechiamo bene. Aggiungiamo una spolverata di ricotta salata. Et voilà! I tortiglioni alla norma sono pronti. Geser? Geser, ma dove sei finito? C'è una forchettata anche per me? Certo! Con tutto quello che ti mangi, vai a mangiare qualcosa di sano, dai! Grazie!